coerente. Le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese andranno ritirate con gradualità e solo quando il miglioramento del quadro congiunturale si sarà sufficientemente consolidato e l'incertezza significativamente ridotta. Nell'area dell'euro, l'attività economica è ancora frenata dal perdurare della pandemia e dagli effetti dell'incertezza sulla domanda di consumo e le decisioni di investimento. Al netto di fattori temporanei, le variazioni dei prezzi restano molto contenute. La crescita del prodotto interno lordo dovrebbe riprendere vigore nella seconda parte dell'anno, superando nelle stime più recenti il 4% nella media del biennio 2021-2022 dopo la caduta del 6,6% nel 2020. Questo scenario sconta ulteriori progressi nelle campagne di vaccinazione e una favorevole evoluzione dei contagi. Continua a dipendere dal mantenimento degli interventi di sostegno all'economia.